In una recente conferenza stampa, Antonio Conte ha condiviso riflessioni sincere e approfondite sul percorso verso la vittoria dello scudetto in questa stagione. Ha parlato dell'idea di un miracolo legato alla vittoria del titolo, facendo un paragone con la sua fede personale. Per Conte, che si considera un uomo di fede, il concetto di miracolo va oltre il calcio e coinvolge convinzioni molto personali. Nelle sue parole ha dichiarato, vincere lo scudetto sarebbe un miracolo? Sono un grande credente e praticante, conosco solo una persona che fa miracoli. Prego sempre, per me, per la squadra e per i miei giocatori. Nelle mie preghiere, oltre alla mia famiglia, ci sono anche i miei giocatori. Conte ha spiegato che, anche con la preghiera e la fede, sa che questa da sola non basta per raggiungere un obiettivo così impegnativo come il titolo. Secondo lui, il duro lavoro e l'unità del team sono elementi fondamentali per costruire qualcosa che possa davvero durare. Per rafforzare questa idea ha usato la frase «Dio vede e provvede», ma ha chiarito che ciò non sostituisce l'impegno quotidiano e collettivo di tutti. «L'unica cosa che possiamo fare è essere uniti per costruire qualcosa che duri nel tempo», ha affermato, sottolineando l'importanza del lavoro continuo e della dedizione di ciascun membro del team. Sempre in tema di miracoli e lavoro, Conte ha sottolineato che, per realizzare il miracolo, è necessario che la squadra sia allineata negli intenti e negli sforzi. Crede che pregare da solo non sia sufficiente e che ci voglia molto lavoro per ottenere ciò che si desidera. Con queste parole ha voluto ispirare i suoi giocatori e tifosi a credere che, con l'impegno e l'unità, la squadra può ottenere grandi risultati, anche di fronte alle difficoltà. Oltre a parlare di fiducia e di corsa allo scudetto, Conte ha colto l'occasione anche per chiarire una situazione recente che lo preoccupava. Ha raccontato che dopo la partita tra Inter e Juventus si è sentito a disagio per alcuni titoli di giornale che, secondo lui, non coglievano bene lo spirito collettivo che lui apprezza. Ha commentato, ci tengo a chiarire ancora una volta che il Napoli vince o perde, non è Conte che vince o perde. Conte ha espresso sorpresa nel trovare titoli che lasciavano intendere che si stesse godendo di alcuni aspetti della partita, senza fare riferimenti specifici alle due squadre. Per lui il calcio è un'attività collettiva, dove tutti vincono e perdono insieme. Questa è una visione che desidera rafforzare, sia per i suoi giocatori che per i suoi fan. Secondo Conte il concetto di vincere o perdere deve sempre essere visto come uno sforzo di gruppo e non solo individuale. Ha riconosciuto che alcune interpretazioni dei media lo infastidiscono, soprattutto quando sente che il suo spirito di squadra non viene trasmesso come vorrebbe. Ha detto che alcune cose mi danno fastidio, chi mi conosce lo sa, riferendosi a quanto valorizzi l'unità del gruppo e la visione collettiva dei risultati. Conte, infine, ha ribadito l'importanza che tutti siano uniti come squadra, sottolineando che per lui questa unità è la vera base di ogni successo in campo. Con la frase siamo uno, ha ribadito che ogni giocatore, membro dello staff tecnico e anche i tifosi hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della stagione. Allora, tifosi nerazzurri, cosa ne pensate delle parole di Conte? Lascialo nei commenti.